Sono l'ultima figlia di un brinco di milanese che per lasciare un ricchetto al primo genito ha attenzionato con mezzo tutti gli altri padetti, sia amante che femmine. Sala te, cosa vuol dire? Ma che è un musico? Tutti gli altri figli da uno genito in cuoio. Veramente, poverina, e tu hai tentato di tornare ancora, anche senza avere compassione. Io, proprio dovevo scegliere, per la vita piccola, in mezzo d'acqua, ero delle bambole vestite da cuoio. Tutti i parecchi mi dicevano che bella scuola, che brava scuola, e quando in casa mi vedeva a ridere e a scherzare, mi ritrovava.